buongiorno a tutti è lunedì e oggi è giorno di chemio alle otto e mezzo l'appuntamento sono un po nervosa perché come sapete lunedì scorso non è andata molto bene l'infermiera purtroppo mi ha bucato fuori dal porta cat e quindi ho avuto un po di problemi più che altro anche lo spavento ma cerchiamo di essere positivi e sono sicura che andrà tutto bene oggi solo mi daranno solo il taxolo un chemioterapico e non completo come settimana scorsa quindi spero che questa settimana andrà un po meglio un po più semplice un po più tranquilla perché la scorsa settimana come vi ho già detto è stata molto molto pesante fatto fatica e chiaramente il caldo non aiuta ma il caldo penso che disturbi tutti non solo chi fa che mio e niente dai mi do un in bocca al lupo a me stessa e vi auguro un'ottima giornata ciao